A Ceprano i carabinieri hanno tratto in arresto un 34enne senegalese domiciliato a Roma per resistenza pubblico ufficiale. L'uomo nel corso di un controllo di identificazione in evidente stato di alterazione psicofisica si è scagliato contro i militari tentando la fuga, prontamente bloccato ed arrestato. Espletate le formalità di rito è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Ponte Corvo in attesa del rito direttissimo. Nel corso dei servizi di controllo del territorio a Monte San Giovanni Campano hanno denunciato in stato di libertà due trentenni del luogo per evasione. I due, sottoposti al regime degli arresti domiciliari al momento del controllo, non venivano trovati in casa in quanto allontanatisi senza autorizzazione. A Isola dell'Iri i militari del NAS di Latina a seguito di ispezione igienico-sanitaria presso un noto locale della zona hanno accertato l'assenza degli apparecchi per la rivelazione del tasso alcolico posto a disposizione dei clienti presso l'uscita del locale. Inoltre, sempre a Isola dell'Iri, sono stati controllati tre soggetti di origine campana che si aggiravano senza motivo nei prestiti obiettivi sensibili ed abitazioni isolate del luogo. A carico degli stessi una proposta di rimpatrio con foglio di via obbligatorio e di vieto di ritorno nel comune per tre anni. A seguito di controlli del territorio nei centri storici di Isola dell'Iri e di Sora sono state segnalate diverse persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti e nel corso di controlli alla circolazione stradale sono state sorprese tre persone alla guida dei rispettivi veicoli in evidente stato di ebrezza dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche o di uso di sostanze stupefacenti, denunciate in stato di libertà con il conseguente ritiro delle potenti di guida e del sequestro dei mezzi.